carissimi fratelli sorelle pace e bene buongiorno per tutto il giorno meditiamo stamattina il vangelo di marco capitolo 3 versetti 13 a 19 in quel tempo gesù sale sul monte chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui ne costituì dodici che chiamò apostoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni costituì dunque i dodici simone al quale impose il nome di pietro poi giacomo figlio di zebedeo e giovanni fratello di giacomo ai quali diede il nome di buonereghez cioè figlio del tuono e andrea filippo bartolomeo matteo tommaso giacomo figlio di alfeo tadeo simone il cananeo e giuda iscariota il quale poi lo tradì parola del signore il nostro brano ci racconta la scelta dei dodici apostoli lo sappiamo che questo numero 12 non è casuale a qui ti ricordiamo dei dodici tribù e di israele e poi 12 un numero perfetto entriamo nell'universalità e da questa università capiamo che gesù vorrebbe creare un nuovo popolo di dio il popolo non sarà più israele e invece con gesù cristo il popolo sarà ogni popolo di ogni lingua nazione razza e così via dunque un popolo inclusivo non esclusivo la missione essendo importante di sus e certo queste persone per mandarli a predicare non soltanto a parola con i fatti anche perché ha dato a loro il potere di guarire di scacciare i demoni allora scacciare i demoni non soltanto per soddisfare la sofferenza o i desideri del popolo ma soprattutto per dare un segnale forte della presenza del regno di dio in mezzo a questo popolo per dire anche che siamo nei tempi messianici è vero che gesù sarà riconosciuto messia e diciamo dopo la risurrezione ma qui è già un segno che il popolo capirà piano piano se entriamo nella logica della del segreto messianico di marco no entrando lì c'è la gente e capirà piano 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 chi fosse è gesù cristo allora questi apposti dunque avranno questa incarica della loro del loro maestro marco ha detto anche che questi apostoli stessero con lui con gesù cristo ciò significherebbe che la loro vita è configurata è configurata alla vita del maestro gesù è il maestro loro sono i discepoli allora tutto tutta la vita di questi discepoli è configurata alla vita del maestro e perciò questi apostoli hanno la fiducia del maestro lui ha dato a loro tutto perché sa che loro sono capaci di realizzare ogni cosa nel suo nome però nel suo nome ecco carissimi quello che ci racconta marco stamattina e penso oggi noi dovevamo essere dovevamo considerarci anche e apostoli perché il nostro rapporto con gesù spesso lo diciamo no solo è un rapporto di di domanda dai signora aiutami signora aiutami ma dimentichiamo l'altra parte che noi siamo anche protagonisti della sua missione siamo missionari abbiamo questo incarico di predicare la buona notizia di evangelizzare evangelizzare non significherebbe soltanto prendere la bibbia passare casa per casa per predicare va bene si può si può fare ma soprattutto le azioni dare testimonianza dare testimonianza il mondo di oggi ha bisogno dei testimoni potremmo parlare di cristo mille volte ma sono le parole ma ci deve essere qualcosa di concreto che ci aiuterà a capire o che c'è tra gli altri a capire che veramente cristo sta in mezzo a noi e perciò carissimi non dovremo esitare non dovremo pensare che non siamo capaci non siamo in grado non possiamo farcela no perché lo spirito santo che abbiamo ricevuto il giorno del battesimo opererà in noi non siamo noi a operare e lo spirito santo che ti guiderà ciò che ti manca il coraggio il coraggio abbiamo paura paura di predicare e ci vergogniamo esitiamo invece no non mandiamo gli altri a predicare ma tu puoi predicare perché hai ricevuto lo spirito tu sei missionario dio ci ha scelto per mandarti a predicare cominciando da casa tua devi predicare a casa tua dando un buon profumo cioè una vera e buona testimonianza noi dimentichiamo carissimi che noi siamo gli strumenti nelle mani del signore tutte le nostre azioni dovrebbero orientarsi verso il bene dell'umanità da questo noi diamo una vera testimonianza che cristo è veramente in mezzo a noi vi auguro una buona e santa giornata che dio vi benedica sempre